Monte Galda, partenza del cammino Fugazzaro Roy Bene, dovrebbe essere di qua Adesso guardiamo le tracce GPS perché mi sono già persa Giusto per rendere partecipi tutti delle mie struggle C'ho l'antivento sopra Perché giustamente noi e io e Ilaria facciamo delle scelte di vita Come si dice? Rischiose Perché entrambi abbiamo le canottiere E io tra l'altro ieri sono stata al mare a bruciarmi tutto il giorno Quindi ho le spalle viola Abbiamo cominciato il cammino Fugazzaro Roy Oggi la prima tappa prevede 18 chilometri E per il momento è molto carino Perché abbiamo appena cominciato Però è molto carino Adesso abbiamo l'ansia perché abbiamo visto un gigaragno Su una ragnatela E fanno le bagnatele da una parte all'altra Quindi ce le stiamo mangiando tutte E c'è Ilaria davanti con il bastone Che sta rompendo tutto Sono le 8 e 17 E fa già un caldo boia E abbiamo sbagliato strada Nooo mi sono dimenticata di portare i miei adesivi Quelli del mio canale No infatti E infatti Non c'è neanche un albero. Dicci un po' di ombra, facciamo pausa? Sì, dai. Facciamo pausa all'ombra. Siamo nel comune di Longare. O Longare. Io con i nomi delle città sono pessima. Sì, oggi sposi. Che carini tanto tavolari. Sì. Vi. Mi potete stare le calpe di luce. Va bene. E le tartarughe sì, per esempio. Dove? Tutte le libelle. Ma sì. Ma sono ranocchie queste qua? Passa anche per di qua. Ci stanno inseguendo. Scappa. Scappa. Ci prenderanno tutti i panini. Ci faranno fare dei bounce. No, no, no. L'unica pecca è che non c'è un albero. Sì, è davvero poco un albero. Per fortuna che avevamo il cappello. La prima fontanella del percorso. Dopo 8 km. Dopo 8 km. Funzionava. Bene. Ciao. Ci stiamo lì. Sono 10 e 43. Allora, la riempressioni sul pubblico che ci vede vestite così, conciate così. Guarda, sono tutti super gentili. Sì. Tutti che pensano, ma perché lo fanno? No, comunque sono tutti mega interessati a dove partiamo, dove arriviamo, quanta star facciamo. Carini, belli. Abbiamo anche il pranzo. È tutta sotto al sole. Sono le 11 e mezza. 11 e un quarto. Andiamo a temprarci. Diciamo che capisco la preoccupazione dell'organizzatore del cammino quando ha detto, sì, andiamo a luglio a farlo. Sì, in effetti c'è un po' il sole che picchia. Bisogna organizzarsi anche per questo. Perché è da quando siamo partite che non c'è una parte in ombra, tipo un boschetto. È tutto tipo così, pista ciclabile sotto al sole. Abbiamo trovato il posticino per riposarci. È l'ombra con la panchina. Adesso mangiamo. Alle 11 e 24. Siamo svegliate presto. Abbiamo conosciuto un ragazzo, un signore, che si chiama Alessandro, che fa parte del WWF. Abbiamo cominciato a parlare di ambienti, di tutti questi temi qua che a loro stanno molto a cuore. E è venuto fuori che praticamente noi questa sera dovevamo dormire sull'argine di un fiume, no? Oppure su un'altra pasta comunque bivaccare, perché a Vicenza i prezzi sono un po' fuori budget per noi. E si è messo subito a cercare un'alternativa. Ha chiamato anche delle sue amiche e dei suoi amici per vedere se potevano eventualmente dare il loro giardino. E poi alla fine ci ha anche offerto di andare a dormire a casa sua, in centro a Vicenza. E noi penso che ne approfitteremo anche perché è una persona veramente molto gentile, che ci si fa volentieri due chiacchiere, insomma. Quindi fa piacere anche parlarci. Per il resto noi qua tutto bene, sono le due di pomeriggio adesso. Siamo qui praticamente dalle 11 e mezza. Stiamo rilassando proprio qua sotto questi alberelli con l'arietta. E ci ha anche portato un fofilino, un oleandro. Molto carino, ci ha anche offerto le ciliegie, siamo rimasti qua a chiacchierare con lui fino adesso, quindi è proprio una persona d'oro secondo me. Bello, 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 bello. Adesso ci riposiamo ancora un pochino, aspettiamo le tre. Ci dirigiamo verso Vicenza, visitiamo un attimo Vicenza, mangiamo con calma e poi lo chiamiamo per andare a casa sua. Sono le 15.10, abbiamo lasciato la nostra panchina e ci stiamo dirigendo a Vicenza su una fontanella, dopo che abbiamo scoperto che l'Iraria avrà un altro anno di lavoro. Quindi andiamo a festeggiare. C'è un Ugo. Un Ugo e un ristorante indiano questa sera. Ma che carino, tutto dritto adesso fino a Vicenza. Tra un po' passiamo per la Rotonda, una villa patrimonio dell'UNESCO. Eravamo troppo abituate alla pianura. Siamo arrivati a Villa Valmarana. Valmarana. Ho belli alcuni. C'è un ingresso. Di delle case private. Delle case private. Bene. E di qua invece c'è Villa Valmarana. Infatti la c'è il coso che andiamo giù di là. Però noi andiamo a vedere il Monte Berico. E c'è un bel panorama da là sopra. E' fuori da roccio social. Andiamo. Boleh. Grazie a tutti. E qui c'è la segnaletica della via Fossumia, oltre che del cammino Fogazzaroroio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho avuto modo di visitare un attimino Vicenza e faccio quattro passi lì. Adesso faccio un po' la social e poi andrò a lavarmi i denti e poi tanta buona nanna. Ci vediamo domani per un altro giorno. Questa è stata la bruciatura del mare. Fa un male cane. Bene, a lavorare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.